Buongiorno a tutti, buongiorno ai lettori del blog. Questo piccolo video è solo per salutarvi e per ribadire un sostegno espresso già qualche tempo fa assieme a altri colleghi rispetto alla possibilità di una piccola svolta storica, ovvero vedere finalmente avverarsi il sogno di avere un Presidente della Repubblica Donna e credo che Emma Bonino sia assolutamente il candidato giusto per questa carica così importante, così prestigiosa e così di rilievo in un momento delicato come questo. Quindi ci tenevo solo a ribadire il sostegno dato qualche tempo fa e mandarvi un saluto. Ciao!